Un presunto artificio è stata definita dal giudice Stefano Serni alla scelta di attribuire nelle pieghe del bilancio 2005-2006 all'allora dirigente del servizio economico e finanziario del comune Giuseppe Naccarelli il potere di stipulare contratti di leasing immobiliare nell'ambito dell'edilizia giudiziaria. Un artificio in pratica che sarebbe stato adottato per evitare che la decisione di stipulare il contratto di leasing per i palazzi di via Brenta passasse dal Consiglio stesso. Questo mi offende ha risposto l'allora sindaco di Lecce la senatrice Adriana Polibortone ascoltata per la seconda volta nel corso del processo sulla presunta truffa con i palazzi di via Brenta su richiesta dello stesso giudice che ha rilevato delle presunte incongruenze tra le dichiarazioni rese dalla Poli nel corso del precedente ascolto e quanto risulta dagli atti acquisiti in giudizio. Ulteriore ascolto in cui la senatrice si è fatta accompagnare dal suo legale l'avvocato Esther Nemola perché indiziata di reato. Indiziata almeno per il momento solo successivamente alla lettura della sentenza che dovrebbe arrivare il 15 marzo prossimo il giudice potrà decidere se trasmettere gli atti in procura per svolgere indagini anche sull'ex sindaco. La Poli ha spiegato in aula che il Consiglio attribuendo quel potere a Naccarelli agito nel pieno rispetto della legge ed effettivamente il testo unico degli enti comunali attribuisce questa possibilità all'amministrazione. Due altri punti fondamentali toccati nel corso dell'udienza. Il giudice ha chiesto alla senatrice spiegazioni su due verbali della commissione di manutenzione in cui lei era presente e in cui ancora si parlava di contratto di locazione con riscatto e non di leasing. Nonostante il leasing fosse già stato stipulato a Milano davanti al notaio Aiello con la firma del dirigente Naccarelli. Anche lui presente in aula insieme ad altri due degli imputati, l'allora assessore al bilancio Egno De Leo e l'ex consulente giuridico della Poli Massimo Bonerba che è indagato anche nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte mazzette ricevute per la realizzazione del filobus a Lecce per cui ha già trascorso tre mesi di custodia cautelare in carcere. Si tratta delle riunioni della commissione di manutenzione che si sono tenute nel luglio 2006 e nel maggio 2007. La Poli ha sostanzialmente risposto che probabilmente all'epoca non era ancora a conoscenza della firma del contratto. Infine si è parlato della mancata previsione in bilancio della spesa che sarebbe stata necessaria per sostenere il pagamento dei canoni di leasing, compresa la maxirata finale. La senatrice ha affermato che il bilancio può essere annuale o al massimo triennale, non decennale o ventennale. Acquistando i palazzi piuttosto che pagando a vuoto un canone di locazione le era convinta di agire nell'interesse dell'amministrazione successiva che supponeva per questo le sarebbe stata grata in quanto il comune sarebbe divenuto proprietario dell'immobile. Nella prossima udienza che si terrà il 15 febbraio si apriranno le discussioni. Dopo la requisitoria del procuratore aggiunto Antonio De Donno la parola passerà al collegio difensivo a partire dall'avvocato Massimo Manfreda che assiste Pietro Guagnano, illegale rappresentante della Socoge, la società costruttrice dei palazzi della Discordia.